Signori, finalmente abbiamo convinto, finalmente abbiamo convinto, godo tantissimo, abbiamo vinto contro il Genoa, vittoria fondamentale in questa trentesima giornata del massimo campionato di calcio Serie A. Mi chiamiamoci posizionati di grande calcio, buonasera e benvenuti, numero 1 ragazzi. Parliamo di questa partita di Serie A delle ore 15, dopo la vittoria del Milan, dopo che la Roma deve giocare ancora. La Lazio mi pare abbia vinto in casa contro il Verona, in casa del Verona, no stavano pareggiando mi sa. Mentre invece il Napoli ha vinto 2-0 contro la Samp, mi sa, gol mi pare di Fabian Ruiz e Viktor Ozyman. Quindi era una partita da vincere questa, la Juve l'ha interpretata davvero molto bene nel primo tempo. Una Juve che veramente non ha dato alito, non ha dato spazio agli avversari. Veramente i primi 40 minuti sono stati fantastici della Juve. Juve schiaccia sassi, arriva il gol con Kuluseski che lo segnava da un bel po' di tempo. Gol ha anche di Morata il secondo, gol di Morata che quindi permette fondamentalmente a Morata di segnare dopo un mese di astinenza. Ottima partita anche in questo caso sia di Chiesa che di Quadrado. Con Quadrado che fa l'assist per Kuluseski e poi è stato inspiegabilmente cambiato a inizio secondo tempo con Alexandro. Mai scelta fu più sbagliata secondo me. Perché la Juventus nel secondo tempo traballa, inizia a traballare. Già aveva traballato all'inizio del secondo tempo, alla fine del primo tempo, con Scamacca che rischiava di portare il risultato sul 2-1. Ottima opposizione da parte di Chiesny davanti alla porta con Scamacca che riesce a liberarsi dai difensori della Juve. Secondariamente, all'inizio del secondo tempo, buona partenza da parte del Geno che guadagna un calcio d'angolo battuto dalla destra. Ad uscire. Scamacca con dei metodi forse poco ortodossi si sbarazza di delitto che comunque accentua troppo la caduta. Scamacca resta sola al centro dell'area di rigore e può ribadire di testa il gol numero 5 del suo campionato. 2-1. Da quel momento in poi continua il forcing da parte del Genoa. Genoa che torna ad essere vicina al gol con Piazza, che riesce a sbarazzarsi con una finta di Giorgio Chiellini. Sarebbe stato un gol davvero molto pesante. Poi i cambi di Pirlo la decidono perché fuo escono di bala, cioè entrano di bala e Meccani ed escono Morata e Kuluseschi. Ed è proprio Meccani che va al gol. In bucata di Danilo, Meccani che si muove sul filo del fuorigioco alla Pippo Inzaghi e in sacca alle spalle di Perine. Davvero super sub incredibile Meccani. Poi in realtà non succede più di tanto, più di tanto granché. Perché comunque il Genoa resta in 10 uomini, non a causa di un'espulsione ma a causa degli infortuni di Zappacosta. Ballardini però non poteva più operare dei cambi in quanto aveva già superato il limite dei 5 cambi. Quindi, partita che praticamente finisce qua, Juventus che mantiene quindi i 3 che sono 4 punti di vantaggio sul Napoli. 4 per i scontri diretti. Ora bisogna aspettare i risultati delle partite fra Roma e Bologna e Fiorentina-Atalanta che concluderanno la giornata odierna. Poi la giornata intera verrà conclusa dal posticipo di domani. Quello che vedrà di fronte è Benevento e Sassuolo. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Finalmente convincenti, speriamo di continuare così nella prossima partita. Non mi ricordo nemmeno quando giochiamo. Spero di saperlo il più tardi possibile. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ciao. Ciao.